Il formato di firma SIC Simple è un contenitore di dati che raggruppa un file e le relative firme digitali distaccate o marche temporali associate, utilizzando il formato ZIP. Questo formato di firma è applicabile solo in caso di caricamento su ArubaSign di un singolo file. Per iniziare, avviare il software ArubaSign, caricare il file mediante il pulsante Seleziona Documenti oppure selezionare e trascinare il file che si desidera firmare all'interno della schermata. Dall'apposito menu a tendina, selezionare il formato ASIC Simple. Se in possesso di marche temporali oltre alla firma, è possibile apporre al file una marcatura temporale. Per farlo, abilitare il checkbox in corrispondenza della voce Marca temporale e selezionare il formato desiderato dall'apposito menu a tendina. Dalla colonna Documenti da firmare è visibile il documento caricato. Dalla colonna Documenti firmati è possibile rinominare il documento da firmare mediante il campo apposito. Abilitare il checkbox indicato per salvare il file nella cartella di origine oppure cliccare sul pulsante Cambia cartella per selezionare una cartella personale dove salvare il documento. Cliccare su Prosegue firma per continuare. Da questa schermata, selezionare la voce Firma remota. Poi selezionare il nome utente del proprio account di firma remota oppure inserirne uno nuovo cliccando su Inserisci nuovo, in caso si voglia utilizzare una firma remota diversa da quella già configurata o precedentemente salvata. Digitare la relativa password. Cliccare sull'icona dell'occhio per visualizzare in chiaro la password. Poi cliccare su Prosegui. Dalla schermata successiva, cliccare su Cambio utente in caso si voglia firmare con un altro account di firma remota già configurato. Dal menu Certificato, assicurarsi che sia selezionato il certificato per la firma remota in formato Nome, Cognome. E nel campo successivo, inserire un codice OTP generato dall'applicazione Aruba OTP Mobile. Cliccare sull'icona dell'occhio per visualizzare in chiaro il codice. Concludere l'operazione dal pulsante Firma. Al termine dell'operazione si visualizza la schermata che notifica la corretta firma del file. Aprire direttamente la cartella in cui il file è stato salvato, mediante il pulsante Apri cartella, oppure cliccare su Chiudi per concludere. La firma ASIC Simple è stata apposta correttamente.